Tutte le unità sono dirette alla nave, arriveranno fra mezz'ora. Come abbiamo fatto a non scoprirlo? Chi ha controllato la zona? Kilo signore, due settimane fa, i Chimera devono aver piazzato tutto. Elmi ascolti, le torrette al fire si possono disattivare solo col pendole da dietro. Dovrà trovare un modo per attirare. Ehi, le sono Warner. L'antiaerea mobile non serve a nulla, le truppe di terra vengono massacrate. Ehi, si serve subito un nuovo piano. Rileviamo il segnale radio. Othorn me ne darà una mano a uscire da lì. Signore, parla Othorn. Ho preso il controllo di un drone da stagio. Sto arrivando. Restate in attesa. Sto arrivando, non sparate al drone. Guarda, se la sono fatta sotto. Fatto! Dietro, ora apro una via d'uscita. Il resto della squadra sta aspettando. Andiamo! Squadra E, corrispondete. Eile e io siamo diretti al punto di controllo. Un po' d'aiuto ci farebbe comodo. Sono appena termine. E' a riparo, signore. Io ne smatterò via controllo. Fine della corsa. Ci vediamo in cima alle scale. Warner, come andiamo? Direi che siamo fottuti. Le armi antiaeree sono inutili. E da queste parti abbiamo più chimera che proiettili. Othorn, abbiamo del C4 nel convoglio. Sì, signore. Un po' di esplosivi. Ma che può servire? Semplice. Sbattiamo tutto su un Vitor e ci vogliamo direttamente contro. Piantala con le stronzate, caporale. Le cariche vanno piazzate all'interno. Warner, puoi pilotare una delle loro navette? Dice sul serio? Va bene. Andiamo. Sì, non è vero. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.